Il sindaco di Orgosolo, Dionigi De Leda e la giunta comunale si sono dimessi. La decisione è stata presa dagli amministratori dopo che la procura di Nuora ha chiesto per il primo cittadino, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria sui lavori nel campo sportivo comunale, il divieto di dimora nel paese. Oltre al sindaco De Leda sono coinvolti assessori, tecnici comunali e il titolare dell'impresa che avrebbe dovuto effettuare i lavori di riqualificazione. L'accusa è quella di turbativa ad asta.